è importante imparare a silenziare il narcisista quindi bisogna riconoscere i segni distintivi del comportamento narcisistico, maligno le sue conseguenze sulla tua vita emotiva ma anche sulla tua vita in generale sì certo, benissimo Giorgio, abbiamo anche qua l'apporto di Giorgio Cameli quindi puoi dire benissimo, anzi presentiamole che è sempre un piacere e quindi dobbiamo imparare a gestire i confini sani nelle relazioni con i narcisisti maligni sviluppare delle strategie per rafforzare l'autostima, il senso di identità riducendo l'impatto diciamo che in qualche modo comunque ci sarà delle manipolazioni narcisistiche quindi imparare anche a liberarti emotivamente da una relazione narcisistica costruendo una vita appagante quindi questo è un punto fondamentale non permettere a un narcisista di controllare la tua vita non devi assolutamente permettere a un narcisista ma vediamo chi è il narcisista maligno quali sono le caratteristiche del narcisista maligno? una marmitta col silenziatore, esatto, dobbiamo silenziarlo dobbiamo silenziarlo, un narcisista maligno e dicevo quali sono le caratteristiche quali sono le caratteristiche di questo narcisista maligno? che caratteristiche ha? come si differenzia rispetto al narcisista normale? beh intanto il termine maligno evoca le immagini di un individuo diciamo così diabolico ma ripeto il diavolo non ha nulla a che fare con il narcisista maligno anche perché nell'immaginario il diavolo viene presentato come negativo ma in realtà come vediamo anche dalla Bibbia insomma non c'entra niente non ha con nulla a che vedere con un aspetto religioso il narcisista maligno rappresenta semplicemente un sottotipo estremo di narcisismo caratterizzato sia da tratti di personalità narcisistica sia da comportamenti antisociali e il comportamento antisociale non è uno soltanto che contro la società l'antisociale è quello che se ne fotte di ogni regola se ne fotte di ogni morale e è disposto a tutto per distruggerti e come dice Giorgio Cameli spesso appaiono come insospettabili questi narcisisti maligni non si fanno cogliere quindi hanno sicuramente un senso di grandiosità eccessivo smisurato hanno un senso smisurato di arroganza l'arroganza del narcisista maligno supera soltanto la sua annaffettività diciamo quindi è veramente una roba abominevole poi utilizzano non soltanto la manipolazione ma anche lo sfruttamento quindi il narcisista maligno non soltanto ti manipola per esigenze narcisistiche ma perché cerca proprio di sfruttarti danneggiandoti quindi il narcisista maligno è quello che se può ti fa fare degli investimenti sbagliati e apparentemente può presentarsi come l'opposto come dice Giorgio apparentemente può presentarsi umile, empatico, altruista, affabile esatto, seduttivo, esatto, esatto aperto alla società, bravo Giorgio, brillante, scaltro, curioso sono tutte caratteristiche che può manifestare ma in realtà la base è una combinazione tra un'assenza totale di empatia e di un comportamento antisociale l'assenza di antipatia è in comune a tutti i narcisisti il comportamento antisociale è rappresentato da ad esempio abusi che può fare mancanza di rispetto per i diritti della società in genere delle persone in genere quali sono le dinamiche del narcisista maligno? beh, crea delle dinamiche relazionali distruttive che hanno un impatto significativo nella vita delle persone coinvolte e includono il ciclo dell'idolatria e della svalutazione cioè il narcisista maligno alterna tra idealizzare e svalutare ma svaluta pesantemente svaluta anche cercando di danneggiare inizialmente anche loro idealizzano la loro vittima l'odio, ammirazioni per poi umiliarla e l'umiliazione non diventa neanche più un'umiliazione sottile ma diventa anche un'umiliazione palese sembra di aver incontrato un incrocio tra Einstein e il Principo Azzurro sì, esatto hanno questa caratteristica inizialmente sembrano le persone più affabili sulla faccia della Terra sembrano le persone migliori sulla faccia della Terra però purtroppo per chi li incontra invece questo non è così vanno alla grande con il gaslighting vanno alla grande con l'isolamento sociale e quindi ti danneggiano di fatto la tua autostima perché la tua autostima è comunque basata diciamo, come dire, anche sul tipo di interazione l'autostima della vittima, tra virgolette, del narcisista maligno attraverso svalutazioni costanti attraverso umiliazioni costanti, manipolazioni inizierà a dubitare delle proprie capacità, del proprio valore sviluppa una bassa autostima, una scarsa fiducia in se stesso sviluppa tre pensieri poi fondamentalmente che sono alla base della disistima e questi tre pensieri sono il pensiero come possiamo dire sono il pensiero di incapacità cioè essere incapace, il pensiero di essere impedito di non riuscire a superare gli ostacoli e il pensiero di essere sfortunato quindi il narcisista maligno ti tradisce usa il sarcasmo, il giudizio, le accuse esatto, sono tutte strategie maligne fondamentalmente che non è più soltanto avere il controllo ma il volere danneggiare e nel godere, nel danneggiare le altre persone ovviamente il karma sarà un karma estremamente nefasto però questo è quindi dobbiamo imparare a proteggerci dal narcisista maligno tra l'altro uno dei problemi è che le persone che hanno a che fare con il narcisista maligno iniziano a sviluppare problematiche emotive disturbi dell'umore talvolta dormono poco, sono ansiosi, stressati, depressi quindi la manipolazione costante genera delle ferite profonde fondamentalmente genera anche dipendenza emotiva perché a causa della manipolazione subdola direi del narcisista maligno le vittime possono sviluppare dipendenza nei confronti del narcisista stesso la paura di perdere l'amore perdere l'amore che non c'è mai stato o l'approvazione perdere l'approvazione può portare la persona a restare intrappolata in una relazione tossica quindi questo è se uno ha un problema una frase che dice tre denti e sotto sotto ci sta bene esatto, esatto hanno un po' questa modalità ma adesso vediamo quali sono le frasi che devi dire ma soprattutto dire a te stesso perché queste 15 frasi che andremo a vedere sono frasi che devi dire sì ma dire soprattutto a te stesso altrimenti svilupperai dipendenza emotiva la paura di perdere l'amore svilupperai la paura del giudizio del narcisista e questo ti farà restare intrappolata o intrappolati in una relazione fortemente tossica e tra l'altro siccome poi le persone tendono a generalizzare tra l'altro le generalizzazioni le cose le abbiamo viste nel seminario sul canale Massimo Terramasco con l'abbonamento base tendendo a generalizzare e quindi avrai difficoltà nelle relazioni future perché molte persone dopo che escono da una relazione con un narcisista maligno hanno difficoltà nelle relazioni future nelle relazioni successive hanno veramente difficoltà perché generalizzano il trauma emotivo che poi è un'amplificazione di traumi già esistenti influenza poi la tua capacità di formare legami solidi in futuro perché svilupperai diciamo tante cose interessanti sentiamo anche l'apporto il contributo di Giorgio quindi questo sono tutte cose che si manifesteranno nella tua vita Cristina studio cura la moglie di un signore che è uno degli autori della canzone ah perdere l'amore quello di Massimo Raniero ogni volta che vieno a studio mi ammazzo di risate dico come un'altra canzone perdere l'amore quando si fa sera quando tra i capelli non in meno nel caso un po' d'argento li colora Massimo Raniero perdere l'amore e comunque la paura di perdere l'amore è una delle cose più importanti e quindi questa paura di perdere l'amore poi alla fine ti impedisce di avere relazioni durature proprio perché è uno dei modi per difendersi da perdere l'amore e non vivere l'amore quindi dobbiamo imparare a proteggerci dal narcisista maligno per proteggerci dobbiamo avere consapevolezza forza e azione intanto prima cosa e quello state già facendo informati sul narcisista non soltanto da me ma andate a diciamo a sfrugugliare donna per di dente esatto andate a sfrugugliare anche da altre parti perché non dico che sia l'unico canale che tratta del narcisismo ci saranno anche altre cose libri e tutto prendete più informazioni possibili sentite diverse campane perché questo è un è il primo passo proteggersi dal narcisista richiede consapevolezza forza e azione e quindi bisogna informarsi acquisire una conoscenza approfondita del narcisismo ma non per diagnosticarlo perché non siamo né terapeuti né psicologi né altro ma per difenderci cioè acquisire una conoscenza approfondita del narcisismo ma delle sue dinamiche ci aiuta a riconoscere i comportamenti manipolatori e a difenderci quindi più cose conosciamo meglio è perché è come dire io devo conoscere il mio nemico devo conoscere se vado in guerra guerra sia però il diciamo è pieno di narcisisti vabbè sì però diciamo ascoltando diverse campagne magari ascoltando anche dei narcisisti perché no l'importante è acquisire informazioni perché poi diciamo oggi viviamo in un'epoca in cui vengono sicuramente diffuse anche tante informazioni false e tendenziose però diciamo che vengono diffuse tante informazioni per cui reperire informazioni credo che sia il primo punto fondamentale no una volta che hai reperito informazioni ah grazie Cami una volta che hai reperito informazioni puoi iniziare ad avere una consapevolezza diversa puoi iniziare a difenderti e ripeto a parte me il web offre tante possibilità no tante offre tante luoghi dove andare a capire no quindi riconoscere questi comportamenti è molto importante e stabilire comunque subito con qualunque persona tutti in relazione dei confini sani cioè non devi lasciarti ipnotizzare dall'idea ho trovato l'amore della mia vita quando magari l'hai appena conosciuto perché ci sono poi delle malgascione che magari conosci uno la prima la sera che ne so e al mattino idealizzi no questa è un'altra cosa che io non ho mai capito e mi rifiuto proprio di capire mi rifiuto proprio di comprendere che è l'idealizzazione no tu ma l'idealizzazione è data dal tuo bisogno grazie 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 Giorgio l'idealizzazione è una delle cose peggiori che noi possiamo fare cioè quando tu incontri una persona con il tuo bisogno lo idealizzi e inizia e qua quando scatta il vero problema scatta quando senza delle solide basi cioè senza aver interagito a sufficienza con questa persona no aver parlato aver discusso aver sviluppato delle idee e lo sviluppo delle idee non si manifesta in due sere ah grazie Antonella lo sviluppo lo sviluppo delle idee non si manifesta come possiamo dire da una sera all'altra neppure ci sono delle donne anche degli uomini che oggi incontrano a una festa mettiamo una persona anzi qualcuno manco le incontra perché le incontrano solo online e domani mattina dicono ah ho trovato l'uomo della mia vita la donna della mia vita il principe azzurro e allora se tu inizi a fare questi ragionamenti ti autocondizionerai cioè questi ragionamenti sono giusti sono validi quando con una persona ci hai interagito hai parlato ti sei espressa ti sei aperta sei aperto io sei la ciurma grande tug quindi questo è importante no perché l'idealizzazione porta a prendere l'ucciole per lanterne porta a come dire a confondere la crusca col grano porta a confondere la lana con la seta no purtroppo è così eppure le persone idealizzano quindi cerca di eventualmente parla con degli amici delle altre persone ma secondo te è normale che una persona si comporti in questo modo perché purtroppo se questo tu hai idealizzato tu ti coinvolgi e quindi tu perdi il lume della ragione no quindi il lume della ragione devi recuperarlo io quando sento ad esempio delle persone che mi dicono il mio fidanzato stasera non c'è perché sta con la moglie dico mi tocco per dire ma ci sono o sono sveglio o sto sognando mi tocco da solo no perché come cazzo fai a dire il mio fidanzato quando si tratta di un amante fondamentalmente no il mio fidanzato questa sera è con sua moglie quindi non c'è oppure persone che dicono il mio fidanzato sono sette anni mi dice che il mese prossimo lascerà la moglie ma questa volta è la volta buona questa volta la lascerà davvero ma se sono sette anni che ti dice una cosa che poi non fa quindi almeno prendi atto no delle cose che fanno oppure uno dice il mio fidanzato mi ama ma sta con sua moglie ma com'è cazzo puoi pensare che ti ami se sta con la moglie se ti amasse lascerebbe la moglie si metterebbe con te no eh no ma non lo fa perché c'ha come dire il gatto poi non sa con chi sta il gatto oppure non lo fa perché c'ha due figli c'ha il mutuo tutte scuse diciamo tutte scuse belle e buone no nella testa dei famigli resta e se avesse capito esatto esatto se avesse capito a fondo la situazione se ne sarebbe andata avrebbe chiesto aiuto certo questo è un punto è un punto fondamentale no questo e dobbiamo dobbiamo renderci conto di queste situazioni capisco anche quello che dice Giorgio certo sono discorsi articolati e dobbiamo basati sull'immagine sull'apparire basati anche su quello che l'altra persona che l'altra persona poi pensa fondamentalmente perché è sui bisogni no noi dobbiamo in qualche modo eliminare i nostri bisogni quindi la prima cosa è quindi come dire fai affidamento anche sulla tua intuizione affida alla tua intuizione affidati alla tua intuizione affidate alla tua intuizione ascolta come direbbe Giorgio Carmelo le tue emozioni non comprimere le emozioni perché dentro di noi se tu interagendo con una persona poi senti un velo di tristezza un velo di malinconia le pene d'amore non sono amore questo purtroppo è la cosa che succede no funzionano molte persone credono confondono le pene d'amore con l'amore quindi se una relazione ti fa penare se una persona ti fa penare se una persona ti fa soffrire se una persona ti fa stare male quello lì non è amore quello come dire non è neanche un calesse no perché spesso si dice credevo fossi amore e poi era un calesse ma quello non è neanche un calesse quella è una situazione di merda fondamentalmente soltanto una situazione di merda e quindi questo è un punto fondamentale ma adesso volevo venire a queste famose 15 frasi esatto se come dice Giorgio Cameli se stai con qualcuno che fai fatica soffri eccetera eccetera non è la tua strada indipendentemente da tutto tra l'altro ricordi libri di Giorgio Cameli Battito di ciglia il sentiero della felicità che è trovata su Amazon che sono molto utili per i narcisisti ma vediamo quindi quali sono 15 frasi che devi dire a te stesso più che al narcisista perché intanto il narcisista non le comprenderà ma quali sono le frasi per silenziare un narcisista maligno esistono delle frasi che secondo me devi dire soprattutto a te stesso puoi direle anche a lui a te stesso a te stessa devi assimilarle la prima è questa mi rifiuto di permettere che tu definisca il mio valore cioè io valgo cioè devi mettere in chiaro ma soprattutto a te stesso non devi permettere che un altro definisca il tuo valore mi rifiuto perché dillo anche a te stesso o a te stessa è fondamentale mi rifiuto che tu definisca il mio valore perché questo è fondamentale il nostro valore è il nostro valore ma io mi ci pulisco il culo con quello che mi dice un'altra persona la uso come carta igienica l'opinione delle altre persone quando sono opinioni che tendono a sminuire il mio valore ma le uso come carta igienica e poi le butto nel cesso quindi questo non devi permettere che nessuno definisca il tuo valore la seconda cosa non devi più accettare le tue manipolazioni non accetto più le tue manipolazioni anche questa è un'affermazione che devi dire a te stesso ma basta sensi di colpa ma basta rinforzi intermittenti ma chi se ne fotte cioè e infatti la terza frase le tue parole non mi feriscono più le tue parole per me sono acqua acqua fritta diciamo aria fritta devi essere consapevole che le parole del narcisista non ti devono assolutamente ferire qualunque cosa ti dica il narcisista in qualunque modo cerchi di squalificarti è solo merda soprattutto quelli che cercano di farti vivere i sensi di colpa no? che ti dicono ah ecco se tu fai questo io ti avevo detto e tu non hai fatto io ti avevo fatto e tu non hai detto che ne so qualunque cosa del genere ehi tu per me non fai mai niente io per te faccio tutto io ti do amicizia amore cazzi e mazzi tu non sei costretta a dare niente a nessuno ma che se ne andasse a fare in culo quindi le tue parole non mi feriscono altra frase fondamentale che devi dire a te stesso ma puoi dire anche per un narcisista la mia felicità non dipende da te questa è un'altra affermazione che dobbiamo fare anche sbattergli in faccia sottolineare la nostra indipendenza emotiva non mi interessa se tu ci sei non ci sei se ti butti giù dal ponte se cioè perché poi alcuni narcisisti minacciano di buttarsi giù dal ponte ma buttati a me che cazzo mi frega cioè tagliati le vene fai che cazzo vuoi sono problemi tuoi a me tanto non faranno mai niente ma poi anche se uno lo facesse cazzi suoi fondamentalmente oppure eh ma se tu sei qua tu fai là ridili non consento che tu controlli la mia vita questa frase che devi dire a te stesso ma anche a lui o a lei mette in luce il fatto che sei determinato a mantenere il controllo della tua vita non permettere che un narcisista prendi prenda decisione al tuo posto perché noi abbiamo due poteri no? il potere decisionale e il potere di conquista quindi questi due poteri dobbiamo eh renderli no? dobbiamo svilupparli è molto importante questo e poi eh un'altra cosa un'altra frase insomma che ti suggerisco io merito amore merito amore e anche rispetto sembra una cosa eh che non non conta niente però dobbiamo dirlo a noi stessi altra frase la mia opinione per me conta e la tua opinione per me non conta un cazzo questa è un'altra frase che devi dirgli la mia opinione per me conta mentre la tua opinione non conta un cazzo per me sempre tu puoi dire esattamente quello che vuoi la mia opinione per me conta la tua opinione non conta un cazzo quello che tu pensi sono cazzi tuoi è molto importante questo poi non sono interessato a te non sono interessato a quello che dici non sono interessato ecco il disinteresse non sono interessato a te non sono interessato a quello che fai non sono interessato a quello che dici indica che sei consapevole delle sue bugie delle sue manipolazioni che non ti lascerai ingannare questo è un punto fondamentale non ti lascerai ingannare devi questo devi dirlo devi ripeterlo devi farglielo sentire duro lungo e forte devi farglielo sentire come direbbe Giorgio che neanche ero così freddi glielo fa sentire così così dentro e così forte sono interessate ai fatti non alle chiacchiere esatto un'altra frase interessante quella di Giorgio Cameli sono interessate ai fatti non alle tue puttanate tra l'altro adesso che vedo Green Apple vi ricordo che questa sera sul canale Massimo Terramasco ci sarà la nostra Penelope Wengo ma domani sera alle 21 abbiamo Green Apple che ci farà una Seduction Mastering of Approaching una English Seduction Lesson o qualcosa del genere comunque Green Apple approcci per uomini approcci per donne approcci in tutte le categorie quindi non perdete domani sera alle 21 e questa sera Penelope Wengo quindi mi allontano da te fuori dai coglioni oppure tu allontaniti da me fuori dai coglioni un'altra frase che devi dire non accetti i tuoi comportamenti non accetti i tuoi comportamenti abusivi altra frase tu stai quando quello ti denigra stai semplicemente proiettando le tue insicurezze su di me stai semplicemente proiettando i tuoi difetti su di me questo dobbiamo imparare a dire stai semplicemente proiettando le tue cose su di me ogni volta che ti dice qualcosa che non va di te sta semplicemente proiettando e questo è un altro punto fondamentale altra frase non sei il centro della mia attenzione che è un modo raffinato di dirgli di te non me ne frega un cazzo se no diteglielo anche così è più bello volete fare i raffinati tu non sei il centro della mia attenzione della mia attenzione volete essere un po' più sgressi come si dice in Liguria di te non me ne frega un cazzo diteglielo di te non me ne frega un cazzo non me ne frega un cazzo di te di quelli come te di quello che fai e di quello che non fai poi dire delle frasi ad esempio il tuo comportamento mi ha aperto gli occhi perché noi dobbiamo essere come dice Giorgio Cameli focalizzati sul comportamento questo è un altro punto importante è un'altra frase che ti suggerisco di dire che secondo me è molto utile io devi dirla soprattutto a te stesso proteggo me stessa me stesso e mi allontano altra frase ti lascio ti abbandono non sono coinvolta o coinvolto nei tuoi giochi di potere sono altre affermazioni che dobbiamo imparare a fare noi stessi e poi fare gli altri questo ci consentirà di fronteggiare diciamo un narcisista maligno e di silenziarlo perché fondamentalmente gli toglieremo l'energia vitale il narcisista maligno si alimenta di adulazione no il narcisista maligno si alimenta di di persone che sono devote sottomesse quindi dobbiamo togliere altra frase di Giorgio Cameli tutte le volte che scappi da qualcosa o da qualcuno ricordati che non c'è nessuno che ti insegue a parte la tua ombra e tra l'altro visto che i narcisisti sono pure vampiri secondo me non c'hanno neanche l'ombra perché sapete che nella mitologia i vampiri non hanno neanche l'ombra per cui secondo me neanche l'ombra ti segue questa la approfondirei questa frase che ha detto Giorgio prima la tua spunto è dire stai tranquillo che a te non ti segue neanche la tua ombra neanche la tua ombra vuole sapere vuole sapere anzi farò uno short su questa perché grazie Giorgio mi piace questa frase a te non ti segue neanche la tua ombra adesso appena metto giù faccio subito uno short a te non ti segue neanche la tua ombra tanto sei coglione uno short appena metto giù a te non ti segue neanche la tua ombra tanto sei coglione va bene va bene detto questo mettete in atto queste frasi e vedrete che riuscirete a togliervi dalle palle il narcisista riuscirete a togliervi dalle palle il narcisista un narcisista